Non so se è colpa del fatto che ho 50 anni, ma nonostante io sia un grande frequentatore di internet non mi piace la socializzazione attraverso la rete, penso che i rapporti umani debbano nascere da una sorta di empatia legata anche a una forma di fisicità, diventare amico di qualcuno che fisicamente non vedo in faccia non ci riesco. L'onda dei single sta montando in maniera talmente importante che presto dovranno per forza tenerne conto. Sui single non ci vedo niente di male, anzi credo che ci siano single molto più bisognosi e disponibili a dare di quanto non siano molte giovani coppie di oggi.